Presidente Marsiglio, un successo ai World Skate Game anche sul lungomare di Pescara? Sono le ultime gare di questa bellissima manifestazione che abbiamo avuto l'onore di ospitare in questi giorni. Sette città d'Abruzzo hanno offerto al mondo intero che è venuto qui, oltre 90 nazioni, atleti di 90 paesi diversi che hanno arricchito la nostra terra, hanno creato questo bellissimo evento, hanno permesso all'Abruzzo di essere conosciuto, visto in tutto il mondo attraverso i diversi network televisivi che stanno riprendendo queste immagini e trasmettendo le belle immagini delle nostre città e dei nostri impianti. Domani è la maratona conclusiva, si avvia a conclusione anche quest'altro grande evento mondiale di cui l'Abruzzo è stato protagonista.